Mercoledì 21 agosto 2019, partiamo con calma perché? Perché è finita la settimana di ferragosto, perché la fine del mese sta iniziando finalmente ad arrivare per poi aprirci le porte verso un settembre ricco di tecnologia, ma soprattutto perché per me la settimana di ferragosto è sempre stata la settimana della svolta. Perché? Perché quando poi tutti festeggiano ferragosto, sì che bello, agosto, mare, montagne, eccetera, eccetera, vacanze, ecco, quando finisce la settimana di ferragosto inizia quella del mio compleanno e sì dai è bello poi compiere gli anni quando sei giovane, quando arrivano i 20, quando arrivano i 25 e quando arrivano i 26. E come quando alle superiori pensavi dai magari il professore mi mette 5,6, io ho 5,6 di media così almeno poi magari tutto si arrotonda ad un bel 6, quando ti rendi conto di essere ai 26 praticamente potresti fare lo stesso ragionamento e dire ok stanno arrivando i 30. E quando ti rendi conto che stanno arrivando i 30 capisci di essere meno giovane di quello che eri, anche solamente uno o due giorni prima. E quindi in ogni caso diventi un pochino più consapevole, vuoi diventare un attimino più consapevole. E quindi quando poi inizi a fare ipotesi sulla tua vita, inizi a capire come posso fare un po' meno il ventenne e iniziare magari a mettere un attimino un briciolino nella testa sulle spalle, capisci poi che devi fare alcune scelte e capire quali in realtà siano le vere e proprie priorità. E soprattutto capisci che queste scelte le puoi fare in 270.000 campi e quindi se magari fai una scelta per essere magari una persona migliore sotto l'aspetto di vista sociale, sotto il punto di vista magari del rapporto con altre persone, capisci anche che determinate scelte le puoi fare anche nel settore della tecnologia. Quindi questa puntata non sarà la solita puntata in cui vi racconto tecnologie, vi racconto cose che si trovano sulla tecnologia. Ma è una sorta di analisi, è una sorta di seduta che non pago, quindi praticamente sono 70 euro in meno che potrei dare un analista e ne parlo davanti al microfono. Non solo perché magari poi do punti e spunti soprattutto a voi che poi potreste sia magari farli vostri che magari integrarli spiegandomi anche come voi con il crescere degli anni poi alla fine avete cambiato il vostro rapporto con la tecnologia, ma proprio come momento in cui la voce di questo 25enne è su internet e quindi poi magari tra 1, 2, 3, tra questi 4 anni che poi mi separano i 30, ascolterò la puntata e dirò ok. Ma alla fine tutte queste regole che mi sono dato, tutto questo manifesto che ho espresso, che ho buttato sull'internet è servito, è servito, sono riuscito a cambiare il modo in cui mi approccio alla tecnologia crescendo e quindi oggi vi racconto come ho deciso, perché ho deciso e soprattutto ragazzi come cambierà il mio rapporto con la tecnologia. So che tanti di voi lì fuori mi diranno, cavolo ma alla fine fai 26 anni, cioè magari io ne ho 35, magari ne ho 40, eccetera eccetera. Ok, io sono in sbattimento per questa storia di 26 anni, veramente, quando un po' di tempo fa mi sono reso conto di questa cosa, non ci ho più visto. Ho detto, perfetto, sono vecchio. A 26 anni mi sento vecchio, a 25 anni e 363 giorni, 364. Per cui, ragazzi, in tutto questo, come si modifica il mio rapporto con la tecnologia e soprattutto perché ho in mente di stravolgere praticamente un rapporto vis-à-vis con, se vogliamo, il mio giochino quotidiano. Tutta questa scelta è nata praticamente a inizio dello scorso mese, quando sulla mia scrivania è arrivato un giocattolino nuovo, quando è arrivato il Mac, quando è arrivato il Mac con le porte USB-C, con le porte Thunderbolt 3. Vi ho raccontato un paio di settimane fa come alla fine poi il mio rapporto con questa periferica sia bello e mi auguro che arrivi presto anche sull'ultimo dispositivo Apple, che non fa riferimento ancora oggi a questa porta. Però, in ogni caso, questo mi porta praticamente a rendere obsolete tante periferiche che io avevo in casa. Quindi ho iniziato un po' di tempo fa a dire, ok, quindi cosa fai? O compri un adattatore e quindi alla fine le USB-A tra questo adattatore e il computer le trasformi praticamente in periferiche USB-C, oppure prendi e cambi un pochino i tuoi paradigmi. Perché? Perché io ho iniziato veramente a immettermi in questo mondo a 17 anni, perché quando ho comprato il mio primo iPhone nel 2010 non ero neanche maggiorenne. Quindi alla fine o all'inizio era tutto un gioco. L'iPad è stato lo schermo più grande per cui giocare, su cui puoi veramente crescere. E ad oggi resta il mio dispositivo di riferimento. Quando, 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 poi, alla fine, diventi più grande, capisci che hai bisogno magari di un dispositivo diverso, prendi un Mac che, alla fine, sta iniziando a carburare anche nella mia testa, come adesso puoi fare questa cosa diversamente con questo dispositivo, Buona, alla fine, questi dispositivi, tutti questi accessori che ho tenuto dicendo magari poi una volta mi serviranno, no! Perché il mio rapporto con la tecnologia negli ultimi tre anni è cambiato in maniera tale da avere un iPad col quale fare tutto. E fino ad iPadOS 13, fino al 3 di giugno del 2019, noi non potevamo neanche pensare di inserire una pendrive. Per cui tutte le chiavette USB che ho accumulato negli anni, quelle che ho comprato, quelle che poi alla fine sono arrivate con i vari sponsor, che era diventato il gadget di riferimento alla pendrive USB da 1 giga, da 512 mega. Ragazzi, le pendrive a cosa servono? A praticamente nulla, perché viviamo nel 2019, viviamo in un periodo dove il cloud e le mail stanno diventando forse due capisaldi della tecnologia della massa, perché in ogni caso, sì, il cloud poteva essere il fiore all'occhiello della tecnologia fino a due, tre anni fa solamente per noi appassionati. Però adesso magari un nome come Dropbox, un nome come iCloud, un nome magari come Google Drive sta veramente iniziando a non essere più un tabù come alla fine poteva essere appunto fino a 24-36 mesi fa, quando avevo pochi anni. Però comunque le chiavette, ad oggi, restano qualcosa di inutile per me, così come per esempio un hard disk. E vi racconto un aneddoto. Prime Days, quindi parliamo di una quarantina di giorni fa, esce un bello sconto di un hard disk della SanDisk da 1 Tera con porta USB-C. Io ho detto, boh, dai, me lo prendo per fare un backup. Però alla fine il backup non me lo faccio praticamente mai. Il backup alla fine è anche quasi inutile. Avendo tutto su iCloud, a cosa mi serve un backup? Per cui, vabbè, dai, è sempre meglio avere un backup così. Però nel 2019, ad oggi, non sento neanche la necessità di avere un altro dispositivo che alla fine poi va a mettersi in un cassetto, in un armadio, in uno scatolone con gli altri 1.285 ammennicoli. Perché veramente bisogna usare questa parola? Perché prodotti del genere, nel mio caso, sono prodotti vintage. E quindi puoi diventare praticamente inutili. E tutto questo non lo faccio veramente per un mero motivo economico. Lo faccio per una scelta che alla fine è una scelta, se vogliamo, molto più improntata ad una pulizia mentale. Ad una pulizia, se vogliamo, anche di spazi. Perché tutta questa roba è accumulata da qualche parte. E quindi, quando veramente, a inizio del mese, ho aperto armadi, ho aperto cassetti e ho trovato cose che, boh, perché ho un microfono USB bruttissimo della Trust? A cosa ne faccio? Cosa lo uso per fare, per fare il podcast, quando ho un paio di microfoni un pochino più, un pochino più seri? No. Quindi cosa faccio? Prendo, lo metto e poi deciderò. Probabilmente lo darò in donazione. Cioè, lo manderò, manderò tutto questo, questo scatolone alla Caritas, dove ho veramente dentro 200.000 cose che, boh, perché? Perché è un lettore di tessere sanitarie della regione Lombardia? Perché? Servono? Nel 2019 ci sono siti delle amministrazioni che permettono di fare tutto questo? Non lo so, per cui, anche quello lì, che credo di aver comprato con il giornale della zona, buona, dato via. Webcam che, boh, 480p. Vabbè, una webcam ce l'ho, la mia, credo, Logitech, che ho comprato un anno fa per fare una live su YouTube. Quella è, magari, un prodotto, anche se è USB-A, e quindi sto già cercando, in realtà, il metodo per far funzionare perché non voglio avere dongle. È un'altra mia scelta, tra virgolette, consapevole, o inconsapevole in questo caso. E quindi, perché, alla fine, dotarsi di tecnologia inutile, di tecnologia che riesce sempre a prendere polvere e a non essere, praticamente, la tecnologia utile, che, poi, è l'obiettivo, forse, primario di questo grande amore che, alla fine, tutti condividiamo. E quindi, ho deciso di darmi un paio di regole. La prima regola è la regola della mano, che non è la mano dei Iron Fist di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Però, indubbiamente, abbiamo cinque dita, abbiamo la regola della mano, che è la regola primaria in tutto questo manifesto, in questo macro mondo di regole che mi do. Per quale motivo? Perché il cinque deve essere il numero massimo. Non il sette del dottor culo cane, ma cinque. Cinque che cosa? Cinque dispositivi. Cinque dispositivi evitando, e qua butto dentro anche la seconda regola, di cui vi spiegherò meglio tra poco, la ridondanza. Per quale motivo? Perché il cinque è un numero bellissimo. Innanzitutto perché poi, puoi dire, i miei dispositivi li conto sulle dita di una mano. E perché non ho necessità particolari. Perché, grazie a Dio, o per sfiga, sono una persona che non ha interesse verso un mondo più ampio di smartphone, che è il mondo di Android. E quindi, se io voglio utilizzare l'unico altro sistema operativo che ad oggi è veramente valido, è iOS. E quindi iOS, se tu vuoi uno smartphone con iOS, vuoi l'iPhone. E di iPhone ce ne sono diversi modelli, ma alla fine l'ultimo, comunque lo smartphone, tra virgolette, per me, è uno solo. E quindi uno smartphone, l'iPhone. Il tablet, che per me resta ad oggi, come vi dicevo prima, il mio dispositivo principale. Ok, c'è l'iPad mini, c'è l'iPad Pro, c'è l'iPad Air, c'è l'iPad. Però, perché averne 270.000? Uno, l'iPad Pro del 2018. Stessa cosa per il Mac. Eh, magari poi ci penso e mi faccio un Mac mini, eccetera, eccetera. Perché? Perché fare cose? Perché avere due dispositivi dove magari ne usi uno decisamente di meno? No, un solo dispositivo, il MacBook Pro, basta. E quindi, alla fine, l'unico dispositivo per cui ad oggi mi concedo la cosiddetta eccezione che conferma la regola, come dice il proverbio, è l'Apple Watch. Perché l'Apple Watch è diventato un dispositivo imprescindibile per me. Mi potete togliere l'iPhone, l'iPad, il Mac, l'iPad, ripeto, per una settimana, magari un po' di meno. Però l'Apple Watch non me lo puoi togliere. Perché? Perché è un prodotto che amo alla follia, soprattutto in termini di fitness tracking. Perché ad oggi resta il dispositivo perfetto per me. Perché comunque completa l'ecosistema. Perché comunque dà la possibilità a, per esempio, iMessage di funzionare indipendentemente anche dall'iPhone. E poi, nel mio caso, è un dispositivo ottimo per il tracking del sonno. Il sonno, che per me è diventato sempre meno un tabù, perché ho fatto una scelta minimalista anche da questo punto di vista. Però un paio di anni fa, no, forse l'anno scorso, e poi vi racconto nell'ultima parte di questa puntata, del come, alla fine. Quindi, l'Apple Watch ad oggi è l'unica eccezione che mi do, avendone due. Quindi ho l'Apple Watch Serie 2 e ho l'Apple Watch Serie 4. L'Apple Watch Serie 4 è il mio dispositivo di punta. È il mio dispositivo che ho al polso durante il giorno. È il dispositivo che ho al polso in mille occasioni. Perché, appunto, ha la connettività LTE, ha, in ogni caso, uno schermo che mi permette di vedere più informazioni. E poi, di notte, ho il mio vecchio Apple Watch Serie 2, che è decisamente rovinato. Che è decisamente un dispositivo che, per mille motivi, non posso vendere. Perché, appunto, ha la batteria che oramai è bella che è andata. Ha, praticamente, uno schermo che ha, praticamente, zero copertura oleofobica. Quindi è un dispositivo che ho pagato. Però, diciamo che, alla fine, tra una cosa e l'altra, non è che poi ci possa ricavare più di tanto. Per cui ho detto, ok, anziché venderlo, anziché regalarlo, il mio fratello, per esempio, lo vorrebbe, me lo tengo per me e lo uso per monitorare il sonno. Ad oggi, perché, comunque, se c'è, secondo me, un grave difetto di Apple Watch, è la batteria. Perché, comunque, magari, sì, se io non lo uso tantissimo, se non uso connettività cellulare, se non uso il tracking dell'attività, così, magari un paio di giorni me li fa. Però, appunto, ci monitorano l'attività fisica, magari qualche allenamento, ci monitorano il sonno. Diciamo che, tra una cosa e l'altra, dare, comunque, la possibilità di avere due, tre giorni di autonomia, secondo me, sarebbe, perlomeno, imprescindibile. Se poi Apple dovrebbe inventare, dovesse inventare, un metodo di ricarica per ricaricarlo durante la notte, con la vera ricarica wireless, che, oddio, poi, chissà, tumori, eccetera, eccetera, ma, secondo me, lì bisognerà, per forza, arrivare. Quindi, una ricarica dove io vado a letto con l'Apple Watch al polso e l'Apple Watch si carica, dove io vado a letto con l'iPhone, l'iPad, il Mac, magari sono stanco ancora nella borsa, e tutto si ricarica. Quando arriveremo, da questo punto di vista, ad un, veramente, ad un completamento dell'opera, potrei, addirittura, togliere l'unica eccezione che mi do. Perché, ad oggi, se io, appunto, riuscissi a fare più giorni, avere un tempo di ricarica minimo dell'Apple Watch, potrei, addirittura, cancellare, anche, veramente, l'unica defezione che do a questo mio regolamento, che, poi, non è un regolamento stretto. È, più che altro, un manifesto. È, un pochino, i buoni propositi che io faccio all'inizio del mio ventiseiesimo anno e non all'inizio dell'anno solare, però, poi, vedremo, appunto, se di qui a un anno, due anni, tre anni, quattro anni, appunto, al raggiungimento dei 30 saranno rispettati o meno. E poi, come vi dicevo, il 5 non è il numero degli accessori, ma è anche, cioè, non è il numero dei prodotti, ma è anche il numero degli accessori. Perché? Perché voglio sfoltire anche da questo punto di vista. Per cui, per esempio, l'iPad, in questi ultimi mesi lo sto utilizzando per scelta personale, rigorosamente, senza la Smart Keyboard. Senza la Smart Folio Keyboard, come la chiama Apple adesso. Perché? Innanzitutto per una scelta meramente tecnica. La tastiera del MacBook Pro, la tastiera a farfalla, va da bio. Non riesco più a digitare con i tasti alti due centimetri e mezzo della Smart Folio Keyboard. Si scrive benissimo con entrambe le tastiere. Però, quando tu ti rendi conto di come una tastiera, forse non perfetta dal punto di vista proprio strutturale, che porta diversi problemi, appunto, comporta, però, comunque, ragazzi, è un piacere scrivere, non si sbaglia un colpo, io ci ho messo, credo, un paio di settimane ad abituarmi, e già i primi giorni non riuscivo più ad utilizzare l'altra. Mi ritrovavo con un iPad Pro con la tastiera montata ad utilizzare la tastiera a schermo. Perché? Perché la sensazione di scrittura è più o meno la stessa. Perché comunque i tasti sono decisamente più grandi. Perché comunque il movimento del tasto è minimo. Per cui, da una parte abbiamo un movimento zero, perché ovviamente una tastiera è touch, dall'altra invece abbiamo veramente un movimento minimo. Per cui, per esempio, la Smart Keyboard, io, ad oggi, non la sto più utilizzando da, cos'è, un mesetto. E quindi, da questo punto di vista, io ci vado a nozze con questa regola. Perché comunque, appunto, meno. Tolgo un dispositivo in meno. Magari poi, tra un po' di tempo, quando mi renderò conto, magari sceglierò di venderla. Oppure, Apple Pencil, invece, d'altro canto, è un dispositivo che non può prescindere dall'iPad. Perché, in ogni caso, se la tastiera, appunto, nel mio caso, adesso ce l'ho su MacBook Pro, per cui, quando devo scrivere dei testi lunghi, preferisco aprire il computer e scrivere con una tastiera, con, appunto, un dispositivo decisamente più grande e meglio pensato per una cosa del genere, anche se, comunque, si fa benissimo. L'ho fatto per anni. Lo continuo a fare in determinati casi, anche in questo momento. Però, per esempio, l'Apple Pencil è il dispositivo perfetto, per cui è un accessorio che, ad esempio, con la foglia cover io utilizzo sul mio iPad Pro del 2018. E quindi, anche lì, ho fatto una scelta di sottrazione. Scelta di sottrazione che io, ad esempio, ho fatto anche per quanto riguarda tutto il discorso di accessori per l'Apple Watch. Perché, comunque, avere 278.000 cinturini non serve. Quindi, ad esempio, tre cinturini. Cinturino bianco, quello che è uscito classico con l'Apple Watch. Cinturino nero, perché il nero è il mio colore preferito, perché ho veramente combattuto le unghie con i denti per trovare un cinturino nero con la borchia in acciaio del colore acciaio di un Apple Watch serie 1 o se... no, addirittura era un serie 0 e poi il cinturino Nike con i buchi, quindi non la Smart Loop che è un cinturino fantastico, leggerissimo, non si sente al polso, non suda, però diciamo che era troppo. E poi, magari, chissà. Voglio promettermi di poter dare un cinturino un po' più elegante all'utilizzare in qualche occasione, un po' particolare, ma resta veramente da vedere tutto il discorso. E poi sapete che, ad esempio, il mio pallino principale è quello dell'audio. Perché? Perché l'audio resta veramente è una mia passione. Cerco sempre di migliorare la qualità costruttiva del podcast sia in termini appunto di costruzione delle puntate che soprattutto in audio, perché comunque sto cercando di migliorare la qualità, perché comunque diciamo che un mezzo pensierino su un nuovo microfono un po' di tempo fa c'è stato quindi poi vedremo in questo caso però oltre all'audio per quanto riguarda i Utec c'è anche tutta una nuova formula che è appunto l'audio da ascoltare perché in ogni caso c'è iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 7, iPhone 7 Plus che non hanno più il jack audio. C'è iPad Pro che non ha più il jack audio ma non ha la presa Lightning e ha la presa USB-C perché c'è il microfono sia questo che uso in questo momento che quello che ho intenzione presumibilmente di prendere per l'inizio della prossima stagione a gennaio per... cioè è il regalo che voglio farmi per i 5 anni di Utec che ha la presa jack e quindi ci sono delle cuffie che sono cuffie che amo che ho già in un modo o nell'altro iniziato a spammare tra virgolette qui su Utec a consigliare che sono le cuffie che ho indosso in questo momento e sono le TMI2 di Iiii perché sono delle cuffie modulari perché posso cambiare praticamente qualsiasi cosa e quindi ho la possibilità ad esempio di cambiare i cavi e quindi avere il cavo USB-C da usare con il mio iPad Pro perché ho il cavo Lightning che è uscito in questo mese di agosto da utilizzare con il Mac perché ho la presa Lightning da utilizzare con l'iPhone appunto perché ho la presa normale da utilizzare il jack audio da utilizzare con il col Mac con un cavo corto con i classici tre pulsantini perché sono cuffie che ho ancora da quando avevo l'iPhone 6S e poi ho il cavo quello bello strong da attaccare a un banco mixer al microfono con anche il suo vero adattatore per avere fino appunto allo spinotto quindi il jack da 6 mm e 3 e quindi veramente un dispositivo che amo che adoro e però diciamo che alla fine se dovessero uscire le cuffie di Apple per il discorso della ridondanza dovrei fare una bella scelta meglio tenere queste cuffie oppure magari le cuffie di Apple con cancellazione attiva del rumore con magari vari cavi anche lì eh sarà una scelta tosta perché comunque diciamo che un paio di belle cuffie da tenere in testa le voglio perché anche queste si tengono in testa però magari con cancellazione attiva del rumore quindi poi i classici viaggi in aereo in treno viaggi in macchina magari avere la possibilità di scrivere al computer in contesti non proprio silenziosi o servono se dovessero uscire degli ipad degli ipad degli airpods pro come li chiama il buon everything apple pro con cancellazione attiva del suono devo capire se tenere i due o prendere quelli nuovi devo capire per esempio quando ho fatto questa scelta ho detto buon i miei vecchi airpods vanno a mio fratello io prima avevo due paia di airpods gli airpods da casa e gli airpods da passeggio quindi la nuova versione quella con siri quella con il bluetooth 5.0 quella con una qualità audio decisamente più superiore il volume di riproduzione decisamente più buono e poi i classici airpods cosa ho fatto ho preso i miei airpods vecchi i miei allpods o come li chiamerebbe il buono Alberto Bagnoli gli airpods e gli usati mio fratello e quindi io ho i miei bellissimi airpods 2 che mi fanno sempre compagnia io nel taschino dei jeans fanno sempre al caso mio in mille più occasioni però ad esempio anche lì ho eliminato qualsiasi cuffia cablata qualsiasi auricolare cablato auricolare e cuffia sono due cose diverse ed è per questo che si chiamano gli airpods chiuso a parentesi sapete che da questo punto di vista sono parecchio polemico d'altra parte ragazzi oltre ad un discorso meramente appunto di numeri di contesto poi c'è il vero e proprio punto di vista sui prodotti che alla fine restano perché va bene meno 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 però qualcosina avremo un computer un tablet uno smartphone due smartwatch eccetera eccetera di avremo come ho in mente di cambiare il mio approccio ho in mente di cambiare il mio approccio sotto due punti di vista il primo è l'approccio rigorosamente legato ai prodotti per cui durante la settimana si usa il mac giovedì sera il mac va in un cassetto venerd'ipad sabato e domenica con ipad un pochino anche se vogliamo per ritornare ai vecchi amori o comunque diciamo soprattutto il weekend non utilizzare il mac perché appunto il mac mi porta diversa produttività non che il venerdì voglio essere meno produttivo ma voglio iniziare a proiettarmi verso il weekend e quindi avere comunque il mio dispositivo che sarà il mio nuovo dispositivo di intrattenimento durante in verità le vacanze il mac non c'è e quindi più o meno fare la stessa cosa con l'iphone per cui dal lunedì al venerdì magari si usare l'iphone ma l'ipad magari utilizzarlo solamente la sera utilizzare molto bene una funzione che onestamente e dopo un anno lo posso dire con assoluta certezza è la funzione che amo di più di iOS 12 e presumibilmente sarà la funzione che amerò di più anche del prossimo sistema operativo del Mac quindi Catalina che è tempo di utilizzo perché quella cosa è fondamentale per quanto mi riguarda perché scandisce in mille e più occasioni i vari tempi perché perché io ad esempio mi sono dato un'ora di tempo al giorno per Instagram mi sono dato tipo tre ore al giorno per i social tre ore al giorno per l'applicazione di svago e quindi questo mi porta a fare una scelta razionale quindi ad avere la possibilità di non morire davanti a questi prodotti perché sono prodotti che utilizziamo tantissimo perché sono prodotti che ad oggi io vedo continuamente appunto le schematiche che ad oggi non vanno ancora a comprendere il Mac e io ho seriamente paura del mio utilizzo quando oltre ad iPhone e iPad in questi grafici avrò anche le statistiche di utilizzo del MacBook Pro perché perché va benissimo utilizzarlo io sono il primo che come vi ho anche raccontato poi tende a staccare la spina ad una certa ora e magari poi buttarsi molto di più sull'intrattenimento audio quindi su vari podcast quindi su musica radio eccetera eccetera però veramente passiamo tanti tanti minuti tante ore a vedere contenuti magari non tanto utili per cui per esempio mi sono dato in questi giorni di agosto sette ore al massimo di utilizzo di questi prodotti io ho messo il timer dal primo di agosto sette ore al massimo di utilizzo dei prodotti io prima li sforavo le sette ore io mi sono dato come termine e mi si bloccano tutte le applicazioni eccetto i message e credo che quando poi arriverà iOS 13 di mettere la limitazione solamente le persone della famiglia di poter messaggiare appunto con i message per cancellare anche lì il mio rapporto non con le persone ma il mio rapporto con la gente che poi alla fine ci sentiamo amici parenti bla 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 community tech eccetera eccetera ma che alla fine poi perché perché magari non prendersi appunto mettersi gli auricolari nelle orecchie e andarsi a mangiare un gelato e magari magari la mattina andare in edicola comprarsi la gazzetta e leggere la gazzetta cartaceo oppure semplicemente andando al bar vai al bar ti bevi un bel caffè io non vedo l'ora di lunedì perché almeno il mio bar di fiducia finalmente riapre quindi vado al bar mi prendo un caffè ho il corriere ho la gazza sparo due boiate sulla formula 1 sulla moto gp sul calcio come va come non va la classica vita da bar di provincia cosa che io personalmente ho scoperto da poco e che adoro perché anche lì stacca la spina io ve l'ho ripetuto spesso quando vado a bermi il caffè prima della diretta del mercoledì quando appunto io e te che in diretta io l'iphone lo lascio a casa ho un bel podcast da ascoltare di solito è un podcast di radio 24 uno nessuno 100 milan e adesso invece sono vari podcast tra cui quelli di cui vi ho parlato la scorsa settimana che proprio staccano la spina quindi è un pochino il mio manifesto perché la tecnologia è fenomenale la tecnologia aiuta in mille modi la tecnologia che ok può essere anche non limitata perché se appunto arrivo a 7 ore però mi rendo conto oh cavolo devo fare per forza questo io posso benissimo dire cioè rinterrompimi la condivisione tra 15 minuti e quindi magari andare a rispondere una mail eccetera eccetera addirittura ci sarà una cosa bellissima che ricordamelo tra un minuto con iOS 13 oppure togli la limitazione per oggi in casi eccezionali però ragazzi utilizzare meno la tecnologia e voglio cercare poi di avere un rapporto un pochino più sincero con tempo di utilizzo perché ad esempio io vi racconto che sto vedendo sul mio iPhone in questo momento negli ultimi sette giorni ho fatto un un buon una buona statistica che è appunto meno trentadue per cento dalla settimana scorsa addirittura sabato ho usato tutti i miei dispositivi per quattro ore e trentasette minuti poi ci sono ovviamente volte dove magari appunto giovedì vedo sette ore e ventitré minuti per cui un pochino si sfora poi ok negli ultimi giorni ho utilizzato otto ore di youtube sette ore di tweet bot sei ore di instagram quattro ore di telegram due ore di skygo eccetera eccetera e anche lì attivazione in schermo cento ottanta tre al giorno io queste schermate veramente quando c'è ios 12 forse anche poi merito di di una certa chiamiamola pure voglia di di capire come uso i miei dispositivi però questa voglia questa voglia c'è e quindi veramente ho fatto ho fatto poco cioè per esempio sto vedendo adesso dalle 11 alle 12 io ho utilizzato i miei dispositivi per 11 minuti dalle 9 alle 10 per 9 minuti perché non è vero perché comunque ho ascoltato dei podcast però appunto il dispositivo era bloccato in tasca è anche per questo che vorrei degli Apple Watch con batterie che durassero un pelino di più perché comunque vuol dire essere immersi dalla tecnologia ma comunque rovinarsi meno gli occhi rovinarsi meno il cervello e quindi Apple io ti dico una bellissima cosa questa bellissima statistica mettimela anche su Apple TV mettimela anche nelle applicazioni che dai agli smart TV perché vuol dire appunto innanzitutto dare un'opzione perché nessuno appunto magari ha questa limitazione che mi do io sette ore di utilizzo di tutti i social di tutti i contenuti che semplicemente vuol dire anche guardare meno Netflix e magari aprirsi un libro in più poi ok il libro magari è un libro digitale è un libro su iPad e quindi dai magari Apple presentami la tua versione del Kindle cioè sarebbe veramente il quinto dispositivo che comprai uno smartphone un tablet un computer due smartwatch che spero a presto cioè spero presto diventeranno uno e poi il quinto potrebbe essere un ebook reader ad oggi io leggo ebook reader su Apple non voglio passare a Kindle non voglio passare ad Amazon perché in tutto questo poi manca l'ultimo tassello che è forse il tassello fondamentale ma io un ebook reader di Apple lo prenderei ben volentieri poi mi metti un Apple un Apple Book Plus magari inserito in in tutto l'ambito dei servizi Plus quindi non solo magari mi dà la possibilità di leggere gli ebook ma anche soprattutto in America così un bel la possibilità di leggermi le news con Apple News Plus l'ultima bomba che vi butto lì è la bomba degli accessori perché perché gli accessori ovviamente hanno una fonte e quella fonte si chiama Amazon Amazon Prime l'ho disattivato quando il 26 di luglio doveva rinnovarsi Amazon Prime l'ho disattivato innanzitutto perché per esempio Prime Video non mi non mi soddisfaceva tantissimo ci sono serie che mi stanno consigliando quindi poi magari lo riattiverò però da questo punto di vista poi dovrò far molto più fede sul sul mio buonsenso però ad esempio per quanto riguarda le spedizioni veloci il giorno dopo gratis eccetera eccetera veramente ragazzi è è un qualcosa che che mi faceva veramente accumulare cose nei cassetti e quindi ho disattivato Amazon Prime Amazon Prime Amazon Prime Amazon Prime Amazon Prime Video Amazon Prime tutto perché comunque gli unici due accessori gli unici due servizi che utilizzavo realmente erano appunto le consegne e le serie tv le serie tv adesso come vi ho raccontato la scorsa settimana le sto seguendo soprattutto su due piattaforme e anche lì non voglio fare tantissimi abbonamenti potremmo racchiudere anche lì poi la regola della mano quindi al massimo cinque abbonamenti che nel mio caso per esempio sono Netflix Apple Music YouTube credo basta però per esempio YouTube è la mia fonte di informazione principale con Breaking Italy con i video e le live di Repubblica l'intrattenimento perché ci sono canali piuttosto meritevoli per quanto riguarda appunto sia l'intrattenimento che ovviamente anche l'informazione tech e quindi io 12 euro al mese veramente sono tanti tantissimi però li do ben volentieri a YouTube e poi magari appunto come vi raccontavo settimana scorsa gli unici gli ultimi due slot liberi potrebbero andare ad Apple News Plus ad Apple TV Plus o meglio se Apple poi facesse un bundle sarebbe ancora meglio e a Disney Plus perché Netflix va bene tutto però non ha il marchio Marvel e poi Disney dai oggi poi è il giorno dell'uscita del Raleone che andrò a vedere venerdì nel mio caso e fanno veramente dei dei bei prodotti soprattutto ripeto lato Marvel dato appunto il mio fanboismo per il Marvel Cinematic Universe che appunto nella fase 4 sarà strutturato tra tra cinema e serie tv per cui questa puntata ripeto è una puntata strana una puntata racconta è una puntata in cui vi ho raccontato come vorrei d'ora in poi avere questo rapporto un po' più sincero con la tecnologia un po' più sincero con un mondo magari anche poi dal punto di vista prettamente di pianeta perché vuol dire meno plastica vuol dire comunque meno imballaggi perché comunque Amazon fa imballaggi enormi perché vuol dire meno carta vuol dire meno plastica perché in ogni caso tra le altre cose che mi prometto di fare usare meno plastica soprattutto meno plastica monouso meno fogli soprattutto usare l'Apple Pencil con l'iPad Pro e quindi inquinare meno il pianeta e dare un mondo migliore anche a noi stessi perché vabbè dai sono 26 ma non sono 52 per cui 52 che tra l'altro è 26 per 2 l'ho detto come numero a caso per cui ragazzi veramente grazie per aver ascoltato questo mio sproloquio vedremo se manterrò la promessa vedremo se tutta questa sarà semplicemente in realtà una cosa che finirà nel cesso perché poi ci sono mille altre cose di cui poi vi parlerò vi parlerò nel tempo noi ci sentiamo la prossima settimana con l'ultima puntata di questa versione estiva di E-Tech ripeto dal 4 di settembre poi tornerà tutto alla normalità con le dirette con voi in chat eccetera eccetera e soprattutto ricordatevi visto che magari avete 5 minuti in più di aprire l'applicazione Apple Podcast di aprire qualsiasi applicazione voi utilizzate per i podcast date magari un bel voto a E-Tech per aiutare il podcast a crescere buona fine di questo mesire agosto e appunto noi ci sentiamo la prossima settimana